Musica Un'onore di conoscere Norma Goffredo, vengo da Genova, ho navigato tanti anni come radiotelegrafista sulle navi mercantili e sono venuta a visitare questo museo perché ho sentito tanto parlare della riproduzione della sala radio del Titanic, è stato veramente interessante notare i particolari così curati con la quale è stata riprodotta questa stazione e non nascondo, mi sono commossa parecchio nell'assistere alla programmazione del filmato che narra minuziosamente gli ultimi minuti della stazione radio del Titanic. Io sono stata imbarcata tanti anni su navi passeggeri tipo la Roma della flotta Lauro, la Seed Day, l'Achille Lauro, l'Angelina Lauro, sono stata imbarcata anche sulla petroliera Santa Rosalia della Cameli, 120.000 tonnellate di stazza lorca e poi altre navi dell'Oribe Tristito, dell'Online Coswich, della Società Italia di Navigazione, però non con la qualifica di radiotelegrafista. Questa è la foto della stazione radio della Roma e io ero imbarcata con la qualifica di bambina e allievo rettine inizialmente perché una volta non esisteva l'allievo rettì, esisteva soltanto il mozzo che faceva l'allievo rettì. Chiaramente come mozzo non mi hanno voluto imbarcare, abbiamo trovato un escamotage con questa qualifica. Qui sono già a terzo ufficiale radio sulle navi dell'Achille Lauro e qui della flotta Lauro e qui sono in una foto in cui mi si ritrae in divisa in modo dell'acqua. Qui ci sono delle altre foto mie di quando navigavo e qua ci sono io nella stazione radio dell'Achille Lauro. Interessante. Una bella signorina. Io parlo dell'efficienza della stazione radio. Io ad esempio avevo il K, che è un tasto americano, che praticamente la trasmissione veniva effettuata tramite un'oscillazione del polso. Da una parte si facevano le linee dall'altra. Molto sensibile. Molto sensibile e soprattutto veloce, perché insomma trasmettere un telegramma e ognuno di noi, a parte i tasti in dotazione della stazione radio, avevano il tasto personale che mi si era portato proprio. Ma questi qui sono un po', diciamo, mastodoni, perché allora si trasmetteva quelle sottili. Esatto. Allora una certa velocità non potevano. Deve dare il tempo alla sottile. Sì, sì, di di... E se no fai un arco completo. Un arco completo. Ma puoi farmi vedere un SOS o una... Mamma mia, farò una chiamata, una chiamata, www, come si usa. Che velocità. Adesso sono tanti anni che non trasmiscono. È bella. C'era ancora un'abilità non indifferente. Durante la navigazione, nel periodo in cui sono stata imbarcata, era tassativamente vietato parlare di SOS in una stazione radio. C'era proprio il rifiuto totale di mettere insieme questo tipo di comunicazione. V... 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 D... E poi si dà il nominativo radio della stazione che trasmette. V... D... C... H... R... Che è un nominativo radio di una nave. La velocità normale, normale, va dagli 80 ai 150 caratteri al minuto. Dipende dall'operatore che è in ascolto, perché se uno vede che ci sono delle difficoltà, ora diminuisce la velocità. Altrimenti, sui 150 caratteri al minuto, che una volta erano anche i caratteri con cui veniva trasmessa e ricevuta la stampa, sia italiana che estera. Questa è la foto di un iceberg che abbiamo incontrato nella navigazione tra l'America del Nord e l'Europa. Quindi è facsimile. È facsimile. Infatti io gli ho detto che qua noi eravamo a debita distanza, chiaramente. Certo. Però nonostante la lontananza, quando si passa vicino ad un iceberg, si viene colpiti da una corrente fredda, come quando si apre la porta di una cella frigorifera. E questo qui invece è una mareggiata. Non molto grande rispetto a quelle altre che abbiamo preso. Però ecco, vede che l'altezza dell'onda copre altamente la latura della nave. Io la ringrazio per la visita che mi ha fatto vedere delle foto interessantissime. Io ringrazio lei per l'opportunità che mi ha dato di visitare questo museo, chiamiamolo così, e soprattutto mi convimento per lei per la meticolosità con la quale ha ricostruito la stazione Rai. È stato veramente un piacere conoscerla. Grazie a tutti. Grazie a tutti.